In questo video parlerò ancora di educazione, in particolar modo del tema della punizione. Molti genitori utilizzano la punizione come strumento educativo per insegnare al bambino che una certa cosa non deve essere più fatto, un certo errore non deve essere più commesso. Non c'è nulla di sbagliato nella punizione in sé come strumento educativo, come tutte le cose dipende come viene utilizzata ovviamente. L'errore più grosso che in genere i genitori commettono è quello di utilizzare delle punizioni che poi per essere mantenute nel tempo, questo richiede uno sforzo in più del genitore stesso. Quindi la punizione si ritorce quasi più sul genitore che sul figlio. Un esempio tutte le volte che si proibisce al figlio di fare qualcosa e poi bisogna controllare nel tempo che questa cosa non venga fatta. Eppure si proibisce al figlio magari di andare a giocare nel pomeriggio con i compagni di classe e poi ci si trova il figlio che si annoia a casa e che quindi interrompe continuamente le attività che stai facendo. Bene, adesso vediamo una piccola scena che rappresenti un po' questa situazione per poi capire in quale altro modo si può affrontare. Sebastiano, ma dai ancora? Cioè, 50 volte al giorno? Adesso abbiamo questa volta due e più dei tuoi amici, ok? Perché scusa, 20 volte al giorno capita e non so come fare. Bene, in questa scena abbiamo visto esattamente il comportamento punitivo da parte del genitore. L'abbiamo anche visto, perché questa è una pratica molto comune, che poi è il genitore che dopo essersi arrabbiato cerca di aggiustare il danno compiuto dal bambino. Qual è un'alternativa? L'alternativa è dare, se vogliamo, una forma di punizione, ma non la chiamerei neanche più così, dare un compito correttivo al bambino. Ossia fare in modo che il bambino si possa prendere la responsabilità del danno che ha compiuto. Ovviamente non sempre questo è possibile su tutto, però in molti casi è possibile far compiere al bambino qualcosa che da una parte è una forma di punizione, nel senso che lo impegna in un'attività che non è propriamente piacevole, ma soprattutto dall'altra parte insegna al bambino una relazione di causa-effetto. Cioè che se compie un certo errore, poi l'effetto sarà quello di dover dedicare del tempo per rimediare a quell'errore. E questo è un passaggio importantissimo per la crescita e la responsabilizzazione del bambino. Se lo stai andando su, prendi lo straccio, pulisci bene, anche sotto la bottiglia e sotto il bicchiere, se no rimane tutto il segno, ok? Ok. In molti casi i genitori sperimentano con i figli, anche grandi, adolescenti, il problema del disordine e si lamentano, diventano pesanti, urlano contro i figli per il fatto che non mettono in ordine la loro camera, poi che cosa fanno? Vanno nella camera e mettono a posto loro, al posto del figlio. In questo modo hanno la garanzia che il figlio impari una cosa ben precisa, ossia il fatto che, sopportando un po' la noiosità dei genitori, però hanno un grande vantaggio, sia il fatto che tanto al fine saranno loro a mettere a posto la loro camera. In questo video abbiamo appena visto come il genitore ha la possibilità invece di responsabilizzare il figlio imponendogli, tra virgolette, una punizione educativa, nel senso che lo aiuta a prendere responsabilità sulle proprie azioni. Ovviamente il genitore non deve avere la pretesa in questa fase che il bambino da solo aggiusti i propri danni. È normale che serva il genitore come guida che continua a ripetere di fare certe azioni nel tempo, tutte le volte che il danno viene fatto, perché il processo di apprendimento è graduale, richiede del tempo. L'aspetto che vorrei sottolineare è che in questo modo, si vede da questo video, il genitore non ha alcun bisogno di urlare o di perdere la pazienza, cosa che tra l'altro darebbe al figlio la percezione di soddisfazione, di aver avuto un controllo sul genitore. Il genitore può tranquillamente impartire questo compito correttivo in modo molto tranquillo e affettuoso. Il genitore può tranquillamente rilasciuto. Il genitore può tranquillamente rilasciuto. Il genitore può tranquillamente rilasciuto.